Praticamente ho cambiato orizzonti e sto cercando un pesce grande perché ho avuto la possibilità di combattere con questi pesci con attrezzature che non erano adeguate e ho perso tutte le volte Sì, no, perché questo qua se no mi taglia tanto, io cerco di tagliare la lenza Prendimi la padella della black magic manter, forse lo spaga, il tono sarebbe partito più forte se non trova Mettimela Ho cambiato delle testate Prendimi la padella Prendimi la padella La padella Prendimi la padella L'ostrazione Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.